questa è spiegazione a delinquere fermati un attimo, fermati perché sei troppo bello, sei un po' infame ma sei bello fammi fare la foto dell'invidia e la foto dell'invidia sì è calda un po', l'abbiamo attivata quello diciamo, per le norme anti-covid quello è fresco, per la pescatola, sono quelli vostri poggerati basta ragazzi, scusate mette a sinistra, mette a sinistra arrivo eh, arrivo un attimo, un attimo guarda qua, guarda qua, guarda, il mare nostro, non quelli degli altri ci è stato di proteggere TRAIZIONE Mattè guarda qua, ti tramite ma tu vai tardi cominci, ne va che fecline Liam ho mangiato un polpo non l'hai mai assaggiato così non l'ho mai peso così mai era lavorato come è Matteo? è un'intenzionale Matteo tu puoi vedere il polipo? da qua si vede oggi particolarmente bello oggi particolarmente bello non è un segreto è un reato pure a mangiare il polpo il gusto del sud ti avevamo già promesso grazie grazie Matteo forza Matteo forza Matteo forza Matteo ce la facciamo solo un saluto se potete un saluto all'altro di Bari buono rosso buono rosso diciamo livello amichevole agendare va bene ci faremo ciao ragazzi ciao ciao